Grande successo per la prima edizione del premio Alessandro Guidotti, un evento all'insegna della musica e della solidarietà organizzato in memoria del primario della divisione di radiologia e diagnostica per immagini della casa di cura Pierangeli di Pescara, scomparso un anno fa. Il premio Guidotti, conferito a un laureato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è stato consegnato alla dottoressa Marzia Olivieri, specializzata in radiodiagnostica all'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti, selezionata dalla Commissione dell'Ateneo Abruzzese per la migliore tesi di specializzazione. Il ricordo effettivamente è di una persona a cui sono stato molto legato, da un'amicizia sincera, profonda tra noi, legata poi anche dal legame della musica, perché avevamo insieme questa passione e poi noi da moltissimi anni, da più di dieci anni, collaboravamo con la nostra associazione, la LASMOT, la Lega Abruzzese a sostegno del malato oncologico toracico, per lo screening del tumore del polmone. Lui ha, sempre con grandissima passione, ha fatto migliaia e migliaia di TAC a titolo gratuito per i volontari che hanno partecipato allo screening. La voglia di tutti, del direttivo, è quella di iniziare a scedere in piazza e quindi il prossimo appuntamento sarà in piazza Pescara al prossimo anno, quindi si fa screening del torace, quindi seno e polmoni. In piazza ci sono tutti i vari medici che collaborano con le varie strutture e raccogliamo fondi sia per questo sia per continueremo lo screening del tumore del polmone, che già facciamo da anni. Noi siamo stati una squadra, non ci siamo mai detti una parola brutta, era sempre, come dicevano i miei, l'uomo del sì. Mi ha sempre dato carta bianca nella gestione familiare e ha sempre approvato le mie scelte. Come padre posso dire solo una cosa, come dicevo sempre e lo dico ancora, è il padre che avrei voluto avere. Sul palco del Teatro Flaiano di Pescara si sono esibiti artisti locali e nazionali che hanno collaborato generosamente all'iniziativa. Io credo che sia un dovere di noi artisti, di coloro che hanno la forza di comunicare con più voce quando c'è da unirsi per un momento di solidarietà che non può assolutamente mancare, specialmente se parliamo della nostra amata regione Abruzzo. E poi insomma Alessandro Guidotti è un medico straordinario, di grande umanità, di grande spessore, di grande cultura che ha fatto tanto per la comunità.